C'è la possibilità con la superità numerica di gestire meglio il pallone, non abbiamo avuto la personalità di gestirlo con i quattro dietro, questo è il ramarico più grande, riuscivamo solo a salire o a tenere un po' più palla con i giocatori davanti o con Foglia. Questo ci è mancato perché dava la possibilità di comunque tirar fuori un avversario che era anche in inferiorità numerica e nel momento in cui ci avessero dato una pressione importante avevi sempre la possibilità di verticalizzare perché avevi comunque quattro giocatori offensivi con due attaccanti puri al centro dell'attacco. Questo è il ramarico più grande nonostante che nei minuti dal gol di Moscardelli alla fine abbiano avuto solamente quel fallo laterale lungo in cui l'unico uomo, credo solo, ma è una nostra colpa perché con uno che batte il fallo laterale e uno in più in campo vuol dire che eravamo due in più, non può rimanere un giocatore libero al limite dell'area di rigore. E' stato un nostro errore, siamo stati subito castigati ed è un grande rammarico. La valutazione della mancata gestione nel finale sarebbe stata la stessa anche se non avessimo subito gol. L'analisi nostra come staff tecnico in panchina continuavamo a dire tenetela, tirateli fuori, tirateli fuori, poi dopo devi avere la personalità, la lucidità, la forza morale per riuscire a farlo, altrimenti dai forza a un avversario che in quel momento lì secondo me aspettava solo un regalo per poter riaprire la partita.